Carlo Gucci, nuovo tecnico del circolo pattinatorio Bistor Grosseto, una partita che Grosseto perde per 6-2, deluso, amareggiato da questo risultato? No, deluso no, ai miei ragazzi non gli posso dare nessuna colpa, siamo all'inizio di un percorso che continuiamo da un lavoro fatto l'anno scorso ci sarà tempo per esprimere quello che vogliamo esprimere, è stata una partita difficile, lo sapevamo, contro un avversario che comunque per l'attuale livello dell'A2 si colloca fra le prime squadre, quindi che era dura lo sapevamo. Un Grosseto che quest'anno dovrà fare i conti con una retrocessione anche nel girone B, voi ovviamente lavorerete e cercherete di evitarla magari cercando di fare anche meglio, di evitare la retrocessione, è una squadra che deve immagino ancora crescere, ci sono prospettive di crescita secondo te? Sì, certo, stiamo facendo un lavoro che io spero e presumo che ci porti a dei risultati, dei risultati in campo che con un gioco ci faccia divertire prima di tutto senza pensare chiaramente alla retrocessione, noi guardiamo più avanti della retrocessione, dobbiamo guardare più avanti, non ci collochiamo in fondo alla classifica, quindi noi siamo fiduciosi.